Io sono Francesco Gozzi e oggi iniziamo una nuova season set di Fortnite Dible! Ma la schermata di caricamento è nuova? Prima siamo in live, ma la schermata di caricamento è nuova, è fighissima Lo so E si può usare quello, lo sai, vero? Sì Quindi ci scegliamo un quel coso? E spara pure Spara pure Che bello No Eh raga, ti parli, lo sai che siamo in live? Lo so E non dici niente Scusate raga se parli facendo Vabbè dai, non importa Perché non saluti? Io sto al caricamento, non ci sono anticipato Sto vedendo il video Quasi Uuuuh, il video Se non dimenticatemi di dirmi Oggi, in pratica è iniziato il season set A noi c'è, 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 vabbè C'è voluto un botto Però È iniziato Adesso Non c'è No No Non c'è Ah, Edible Non vengiamo fossi salva il mondo Bantelli reale e creativo Ma tu dove sei? Sei Ho fatto il gioco Eh, stai arrivando Ma non c'è il video Io non l'ho fatto oggi Eh? Sì, ti faccio Ah, il video Sì, io lo faccio Ah, raga, in pratica di ballo Se guardate Guardate qui Non posso vedere questa cosa Ha un nuovo nome Perché in pratica l'hanno bannato E' affermi che nome Ma che bello Ok, di ballo B E' affermi che E' affermi che Carino Ma che bello è? Quello che puoi convertire Armi Io vado a fare una cosa Raga, devo fare prima una cosa Acquista Non guardate Aspetta Di balle Sto facendo l'ibac E mi sto scoprendo il passo E basta Diba E' affermi che E' affermi che Ok Ok Sta caricando Torno all'applicazione Libac B-bac B-bac Presi 1050 Libac 3 2 1 sciopriamo il basso 100 kg mettiamo subito come skin questo qui oh mio dio mi sto unendo vai invitami invitato e di invitami si ora mi scioppo anche qualche livello perché ho 200 di bacco no un negozio niente mi sono unito? di per quanti livelli hai? no sono un livello 1 ah che bello creativo devo mettere la terna ok un attimo ma non ti metti più più la terna anche aspetta è bellissimo il nuovo aspetta che mi voglio cambiare la salto con la nuova cosa tutto con la nuova eh sì sto cambiando tutto mi sto mettendo tutte le cose nuove che ho non posso ma mi sono un'altra ma mi sono un'altra ma mi sono un'altra sì sto arrivando ora no cosa stavo io? prima va bene vediamo pronto e tu che ho perso? sto cambiando il camion c il bus non mi ricordo come c'è 8.3 no va bene non importa la tua prima partita sì bello vediamo com'è si è pronto sì sono prontissimo si può volare? cos'è sto coso? eh no qua no dove sono entrato? ma tu dove sei? in un punto che mi ha spavolato mi ha spavolato nel punto di costruzione ma dov'è di quel portale? sì metta tu eh sono lì lì mi ha portato in un'isola come faccio a dormire in via? quanto è duro? guarda mi abbandona la partita sì ah non fermo posso dormire ormai ho abbandonato sto abbandonando eh? ma quanto dura una partita di quelle? tre ore cosa? ma è troppo una partita non è non è vero parco giochi va bene però parco giochi se c'è ma c'è cosa? che che si è è tutto nero perché parco? non è creative 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 metti di la metti di no metti di la termina no no ma sai si è il 50 no ma di ma perché parco giochi? è il 50 questo è l'aereo è la mappa ah sì con l'aereo ma mi piace l'aereo sì sì l'aereo plane mi mostri che bello e le fa so guarda oh mio dio ma ci sono anche le isolette si può andare? no spero vado io no no ma non sono isolette non esistono allora io vado dai bikini ok dai lì lì i bikini e le mappa come sono? la che le hanno bravo no vuoi andiamo dare l'aereo plane? no no ora non andiamo a dare l'aereo plane perché vogliamo un po' visitare la mappa come cambiano lì ma dove vai? lì 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 lo so lì 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 è bellissimo nevica e c'è un mochi di neve il ghiaccio e c'è il ghiaccio ovviamente io vado a utilizzare la città la città la città la città io sto utilizzando la funivia io sto utilizzando la funivia mille viva ho usato la funivia per venire questa è un'esperienza è fighissima allora io ora faccio la re-generation ma dai si perde pure il loot ma diva si perde il loot perché c'è un maliscato? che ci fa un maliscato? hai trovato uno? ce n'era solo? no, c'è troppo più di uno di ballo? c'è più di uno? si io ci sono un sacco è bellissimo guardami come si fa quanti per volare? non capisco c'è pure il potenziamento con A con X mi sono buttato lui va da solo sono andata sul coso sul ghiacciario lo sto rompendo una cosa lo sto rompendo sono andato dentro il coso diva ancora qui sono nel castello dentro e si può scendere ma ma che cos'è? è incastrato dentro un ghiacciario e non si può scendere tantissimo se noti Dibal vieni 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 Dibal lo sai guidare? no ma che bello ma che bello ma questo cos'è? eeeh male poi andiamo a visitare eeeh ma che bello spiagge Dibal lo spiagge guarda com'è è un pochino in nevate è un pochino no scusate voglio venire in neve come? sono in volo sono qui ok sono spiagge come? come? devi tenere il premuto quadrato e ti butti ma che bello è spiagge spiagge tutto il nevato si chiama spiagge il nevato in inglese spiagge il nevato si chiama spiagge il nevato in inglese allora però voglio capire una cosa se andiamo a condotti come? io voglio visitarmi tutto no vieni qua vieni qua dove? sono andata a prendere l'aereco lo so guidare lo so guidare lo so guidare lo so guidare lo guido io dai voglio vedere come chi vado da sol perché è cordo ma qual era la città dove c'era il coso il paracadute il paracadute porco bislacco porco allegro si chiama mi ma l'iceberg è gigante l'iceberg è veramente megalodontico io sto andando a Borgo si chiama Borgo e qual era la città dove c'era la città dove c'era la città dove c'era il paracadute di Aime non so non so no no questo è Borgo viva il cosa mi spiegendo veramente che hanno capito definitivamente Borgo pazzesco ok ma è tutta bello Ehi, raga, dobbiamo aiutare qui. Ci sentiamo alla prossima, cioè domenica o sabato. E ciao!